eccoci qua con il post partita di juve bologna e fiorentina lecce fiorentina lecce che deve ancora terminare quindi partiamo da juve bologna e poi andiamo appunto a parlare anche di fiorentina lecce è una juve che non ripete la buona prova fatta a udine è una juve che a udine aveva dato segnale di continuità di buon gioco sembrava che che fosse una juve diversa dall'anno scorso ha giocato bene molto in velocità in attacco è stata veramente una juve che sembrava un'altra juve ma oggi oggi male oggi male primo tempo esce anche tra i fischi tra l'altro con sempre il solito problema di chiesa sulla sinistra cambiaso oggi meno bene rispetto a udine appunto c'è da dire che sicuramente a lato positivo c'è il fatto che vlaovic sta segnando con continuità cosa che mancava l'anno scorso è un bologna che comunque non ha assolutamente rubato nulla anzi se c'è qualcuno che ha rubato duele durlo dirlo perché sapete che io di ste cose cerco sempre di non parlarne ma c'è un rigore che grida vendetta ragazzi io non capisco come non si sia andato al var a vedere neanche a vedere obiettivamente ho tanti tantissimi amici juventini e la rendo onore al merito che a parte uno che mi ha bloccato ma non c'è problema gli altri hanno detto tutti neanche noi perché anche secondo noi è rigore netto ecco questo è una cosa che io apprezzo tantissimo perché come io cerco sempre di essere sportivo e dire che le cose ci sono anche contro l'Atalanta ed è così che dovremmo essere tutti ragazzi questo è il rigore che io l'ho visto tre volte e tre volte mi sembra rigore netto poi motta protesta sempre anche per cose inesistente stavolta ha ragione viene ammonito viene espulso anche uno della panchina del bologna come poi il gol della juve dell'uno a uno che viene annullato per un fuorigioco che c'è però sono quei fuorigiochi ragazzi come sempre non così netti ecco però ecco secondo me si è anche convinto vlaovic dopo aver parlato se non sbaglio proprio con tiago motta della posizione di rabbiò che era fuorigioco e la scena bella diciamo che quando vlaovic dice non c'è problema lo facciamo tra un po' lo rifacciamo tra un po' e infatti poi vlaovic lo va a fare ma vi racconto appunto di una juve che esce tra i fischi nel primo tempo ferguson con una super giocata di zirze che a me ragazzi piace da matti sento molti bolognesi parlarne male ma si è giovane quello che volete ma zirze è veramente un bel prospetto secondo primo tempo ragazzi secondo me solo bologna in campo juve imprecisa lenta poco pericolosa nei primi 45 minuti è una juve che approccia sicuramente in maniera diversa rispetto a udine non crea le opportunità da gol si sente allegri che urla urla ripetutamente che vuole maggiore verticalità il bologna fa veramente un ottimo lavoro come sempre sapete che non stimo tiago motta ma quando bisogna rendere onore e merito a qualcuno io sono qui e complimenti a bologna per come è stato messo giù oggi ci sono qualche occasione ma senza veri pericoli il bologna prova a cercare il vantaggio ci prova andoie viene respinto poi appunto zirze che man mano che passano i minuti sale di livello la squadra di tiago motta appunto sblocca la sfida con l'attaccante olandese che accentra su di sé la difesa bianconera trova un corridoio d'oro per ferguson che solo contro perin appunto porta avanti il bologna ferguson appunto sfiora la doppietta poco dopo e iniziano i mugugni iniziano i mugugni in casa juve pubblico ci prova fagioli poi chiesa ma con conclusioni diciamo senza senza convinzione ecco uea poi chiede un calcio di rigore per una deviazione di lucumi per l'arbitro non c'è nulla ecco anche questo io magari la sarei andata a rivedere chiesa ci prova su punizione skorupski dice di no e finisce un primo tempo negativo per la juve ma è una juve che nel secondo tempo entra diversamente in campo con un gol di vlaovic praticamente che appunto viene annullato per posizione irregolare di rabiot in offside io sinceramente non me ne ho neanche accorto poi dopo riguardandolo sembra che ci sia però i stivori giochi qui continuano a non capirli ditemi voi nei commenti cosa ne pensate perché sono curioso poi c'è una sassata di uea con skorupski che risponde presente dopo che appunto nell'azione del gol di vlaovic non è che fosse stato proprio perfetto skorupski aveva delle colpe però ripeto appunto si riscatta in questa occasione juve che dopo la fiammata risparisce un po dal campo juve che non riesce a vincere le prime due di campionato dallo scudetto di sarri juve che motta quando vede che si fa pericolosa facendo dei cambi riesce a rimbrigliare poi appunto c'è quel fallo di rigore che vi ho già parlato ampiamente prima poi pogba trova healing che pennella un cross veramente perfetto per vlaovic che stavolta può gioire per il gol buono bologna che ne recupera di nuovo un'occasinissima con zirze forse troppo ritardatale nel servire compagni carson che ci abatta male spreca male un'occasione d'oro veramente al praticamente è l'ultimo minuto poi sì c'è un angolo mi sembra per la juve e finisce la partita che ragazzi che partita anche di corassa un 2004 scovato appunto dalla tiago motta rilanciato titolare complimenti a corassa andiamo a dire anche qualche parola su fiorentina lecce fiorentina lecce che che è una partita dai due volti perché il primo tempo la viola poteva tranquillissima finire tre a zero e nel secondo tempo solo lecce praticamente c'è una partita veramente strana perché la viola c'ha dei cali di ritmo preoccupanti complimenti ad aversa perché io ragazzi non gli davo un punto in queste due partite invece ne fa ben quattro con la lazio e con la fiorentina vedete le cesi che vi porto bene quando pronostico contro primo tempo dominato sicuramente dalla viola vantaggio subito la prima occasione dopo tre minuti con nico gonzalez che ragazzi rifiutati 45 milioni mi sembra per l'accessione e capiamo anche il perché appunto in palla impatta bene con la spalla e beffa falcone raddoppio di duncan intuffo dopo un bello scambio tra beltran e artur artur secondo me farà bene a firenze lo stesso duncan poi va vicino a sfiorare il 3 a 0 ancora su un bel suggerimento di nico gonzalez ma è palo e quindi finisce una prima frazione con una viola che dal possibile 3 a 0 si ritrova al 2 a 1 con rafia che rafia attenzione rafia ve un socio imprendibile per christensen christensen oggi titolare poi c'è subito dopo un'occasione per la fiorentina con duncan che fa un ottimo cross ma pasticcio tra baschirotto ed orgu ma nico gonzalez di testa sfiora il palo e non ha fortuna è una partita che poi procede abbastanza tranquillamente non succede nulla di che un po al piccolo trotto ripeto una viola che è calata secondo me vistosamente nel secondo tempo e christovic dopo due minuti che è entrato in campo trova il gol all'esordio appunto in maglia giallorossa attraversione di banda christovic incorna le spalle di christensen e questa è un'altra scoperta di quel genio di corvino che ragazzi veramente niente da dire cioè veramente niente da dire non succede tanto di che c'è poi appunto caputi che vede un tocco di mano indica il dischetto per la viola ma dopo il check var caputi retifica la propria decisione è un fuorigioco di inzola e niente rigore poi ci sono un po di cambi un po di sostituzioni un po di nervosismo tra parisi in pongracic poi anche tra quarta e caba non succede nulla di che otto minuti di recupero e al 94esimo c'è un'occasione per la fiorentina che può ribaltarla di nuovo attraversione di brecalo come schiaccia di testa e la palla sfida oltre il pallo lontano e non ci sono altri altre cose da segnalare e secondo me due tempi un buon primo tempo ottimo della viola che poteva chiudere 3 a 0 poi questo calo nel secondo e appunto il lecce che ne approfitta senza rubare nulla trova un 2 a 2 veramente prezioso sono punti veramente importanti per il lecce sia questo a firenze che la vittoria con l'alassio ragazzi fatemi sapere come sempre cosa ne pensate voi nei commenti ci vediamo forse più tardi con un altro video se ce la faccio altrimenti solamente domani vi abbraccio di cuore vostro monta andatevi a vedere la reactions fuoco di frosinone atalanta di ieri perché merita ne ho detto ne ho detto ne ho sparata anche abbastanza ci vediamo alla prossima vostra monta ciao come sempre iscrivetevi al canale mettete il piaccio commentate è tutto gratuito ci vediamo alla prossima appunto ciao buona serata ciao ciao ciao